Fiat Doblò 2000 Turbo Diesel, immatricolato a maggio 2011, è un Euro 5, ha percorso 95.000 km, l'auto proviene dal noleggio lungo termine e il chilometraggio è certificato poiché abbiamo il libretto della manutenzione e la perizia tecnica. Come vedete è ancora in ottime condizioni, pensate che questa è una vettura utilizzata dalla RAI, quindi in noleggio lungo termine dalla RAI. Vediamola ora nei particolari, come vedete agli antinebbia, è ancora ben gommata, ma andiamola a vedere da vicino. Guardate le gomme come sono ancora belle, ed ora entriamo. Uno sguardo subito ai sedili, soprattutto quelli posteriori perché sono interessanti, vedete che sono sdoppiati, sono abbattibili, si ribaltano completamente, vedete? Ecco qui, diamo un'occhiata anche alla zona posteriore, grandissimo vano di carico, molto alto, molto ampio, adatta a diversi tipi di utilizzo. Cruscotto con la sua radio, l'aria condizionata ovviamente ed è un 6 march, eccolo qua. Chilometraggio, eccolo qui, 95.000 km. Ora questa prospettiva, naturalmente questa vettura la trovate all'Alintica, a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Se il filmato vi è piaciuto, chiamateci immediatamente e vi daremo tutte le informazioni necessarie. Grazie. Grazie.